Anche VIP, compresi quelli abruzzesi, scendono in campo contro il coronavirus. Che se in maniera eronica o sotto forma di ramanzina, i personaggi famosi sfruttano la loro popolarità e l'alto numero di seguaci sui social per diffondere le buone norme al fine di limitare il contagio da Covid-19. È una situazione, come tutti sappiamo, davvero drammatica, che tocca tutti noi e quindi mi raccomando, bisogna restare a casa. Un messaggio che voglio mandare anche, soprattutto, ai miei coetanei, perché deve partire da noi. Ragazzi, vi giuro, non c'entro niente. È mio figlio che mi chiede di fare queste cazzate. Ragazzi, il mio cuore è per voi. Tenete duro, 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 come siete abituati a fare, ok? In Abruzzo c'è chi ha tradotto le indicazioni ministeriali nella lingua autoctona, così da evitare fraintendimenti. E c'è chi rispolvera, il sempreverde... Il sindaco di San Giovanni Tiatino, Luciano Marinucci, equipaggiato fino ai denti, sembra aver preso tutte le precauzioni necessarie per non contrarre il virus. Ma ci facciamo trovare preparati, cioè ci stiamo a casa e riusciamo solo per le necessità impellenti, mantenendo le distanze di un metro. Costretto ognuno a casa propria, la socialità tra individui si sviluppa in maniera telematica. Nell'infinito mondo di internet, di virale non vi è la patologia, ma centinaia di meme che esorcizzano la paura di questo difficile periodo storico, sempre più simile a un distopico film di fantascienza. Alcuni hanno riadattato le opere d'arte più celebri, per renderle comunicative anche nell'epoca contemporanea. Altri hanno disegnato la copertina del best-seller di Ponzio Pilato, probabilmente il primo igienista della storia. E in barba ai nostalgici della Prima Repubblica c'è chi invoca ancora Mani Pulite. L'ironia non risparmia gel disinfettanti, ormai ritenuti un bene di lusso. Dal web anche un'iniziativa concreta. Su GoFundMe è stata avviata una raccolta fondi per potenziare i reparti abruzzesi di terapia intensiva, tramite cui sono già stati raccolti oltre 70.000 euro in meno di 24 ore. Come in ogni cosa però, anche su internet vi è il rovescio della medaglia. Secondo Umberto Eco, i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli. Infatti c'è chi specula sull'emergenza in atto diffondendo fake news e chi sfoga tutte le proprie frustrazioni. Addirittura alcuni invocano il modello cinese e la pena di morte per chi esce di casa senza un valido motivo. Ma tramite la retorica giustizialista, il bersaglio più vulnerabile della cattiveria online sono sicuramente i detenuti. Questi, rischiando di fare la fine del topo, si sono rivoltati per ottenere più diritti e 13 di loro sono già morti in circostanze quantomeno dubbie. Ma davanti alla bassezza umana, nessun muro di cinta può essere abbastanza alto.